Il Consiglio dei Ministri, con il decreto con cui si istituiscono le nuove autorità di sistema portuali, ha assegnato alle Puglie due autorità portuali, a Bari e a Taranto. Lo afferma il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che parla di una vittoria non solo per Bari, ma per tutta la Puglia. Per i porti che si affacciano sull'Adriatico, oltre che servire i propri territori di riferimento, dice il sindaco, diventa indispensabile fare sistema e aprirsi al mercato dei Balcani, della Grecia e del Medio Oriente per affrontare il traffico passeggeri sia dei traghetti sia croceristico. All'interno del comitato di gestione, noi sindaci avremo un ruolo importante, lavorare per avviare i porti all'intermodalità e metterli in relazione con gli aeroporti, i centri intermodali e le infrastrutture stradali. La sfida sarà quella di tener conto delle specificità dei porti e dei territori e garantire il coinvolgimento dei diversi protagonisti che operano nei singoli porti.